Renzi, Graziano Del Rio Presidente dell'Anzi, il cui parla è presente, il sindaco, i sindaci che oggi si assumevano la responsabilità in un momento drammatico. Infine dobbiamo ricordarci che oggi in difficoltà e in aspa abbiamo una parte di mondo che anche correndo via. Noi dobbiamo andare a costruire un cantiere nel quale tutti costoro, fuori da una logica tradizionalmente ideologica di parte, nell'interesse non solo proprio, ma del paese, dell'occupazione nuova, della possibilità di andare a crescere con tanto le vecchie categorie nell'andare ad aggregare nuove forze. Ma andiamo a guardare a questa forza che dà il basso. Perché, lo ribadisco, siamo ben contenti di lasciarci alle spalle la storia delle ideologie, che è facile per tutti aprire il cantiere democratico. Grazie. 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 Continuerò nella rigidità perché voglio arrivare in fondo. Chi è qui, le persone che qui vedo amano la politica. Grazie. 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 Grazie.